Il Messina torna in campo oggi alle 15 per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia della Lega Pro. I giallorossi saranno in scena alla Rechi contro la Salernitana. Grassa Donia ripropone Lago, Marsini e Bielanovic. Per il Messina è tempo di Coppa Italia. Appuntamento oggi alla Rechi contro la Salernitana con inizio alle ore 15. Bucolo e compagni, reduci da quattro risultati utili consecutivi in campionato, proveranno a centrare la qualificazione al terzo turno della competizione della Lega Pro, che assegna la coccarda tricolore. Da superare c'è però l'ostacolo rappresentato dai Granata, che un anno fa passarono il turno a spese del Messina e calci di rigore. Grassa Donia opererà un ampio turnover, tenendo conto che domenica al San Filippo sarà di scena il Foggia. Annunciato il ritorno tra i pari di Lago Marsini, che nelle ultime settimane ha lasciato il posto a Iuliano. In difesa dovrebbe esserci spazio per De Bode e Benvenga con l'ex Comasco a rientro dopo aver scontato le due giornate di squalifiche in campionato. Chance quindi per tutti i giocatori che fin qui sono stati impiegati meno, come Bortoli, Stampa, Marin e Bonanno. In avanti il croato Bielanovic, l'osservato speciale, a rientro dopo il lungo stop. Tra i convocati è inoltre riapparso Nigro, che ha smaltito i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare due gare. Turno di riposo invece per Corona, rimasto a casa al pari dello squalificato Gaeta, e degli infortunati Altobello, Enrico Pepe e Paez. Robusto turnover anche per la Salernitana, non ci saranno il portiere Gori, il difensore Lanzaro, i centrocampisti Bove e Favasuri, oltre agli attaccanti Nalini, Gabionette e Negro. Si rivedono invece Ginestre e Munard. C'è poi il centrocampista Pestrin, in giallo rosso dal 2007 al 2008. Le maggiori attenzioni sono rivolte al campionato, ma nessuna delle due vuole snobbare l'impegno di Coppa. Dal calcio alla pallanuoto, perché Maurizio Mirarchi, il nuovo allenatore della Water Polo Messina, prende il posto di Luca Tarquini. Il tecnico Ligure ha ottenuto tre promozioni dalla A2 alla A1 maschile alla guida di Lazio, Roma e Acqua Chiara, formazione con cui ha lavorato fino a gennaio 2013. Ha ricoperto incarichi anche nell'ambito della federazione. È stato infatti il trainer dell'Italia, aggiunta quarta alle Universiati di Gazan nel 2013. Mirarchi si è già messo al lavoro in vista della gara di campionato di venerdì prossimo a Firenze contro il Prato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento. Grazie per aver guardato il video.